ciao ragazzi oggi l'unboxing mi è arrivato appena appena ora dalla germania che cosa sarà mai vediamo subito apriamo eccolo qui della o che buffo mi hanno anche regalato delle mentos che simpatici va bene vediamo subito che cosa è bellissimo vi aspettavo colori acquarellabile matite acquarellabili della ak le weathering pencils for modeling spettacolari singolarmente costano un euro e 50 le matite acquarellabili prese singolarmente della faber castel mi sembro di marche particolarmente importanti arrivano a costare anche due o tre euro qui è logico io ho speso una certa cifra so che bene o male li userò tutti magari posso spendere anche 10 euro 15 euro per avere tantissimi colori che però poi magari non vado ad utilizzare vedremo è una prova che faccio mi piace l'idea probabilmente cambierò anche la confezione vedrò se trovo un astuccio in in quelli arrotolabili potrebbe funzionare potrebbe anche essere funzionale questo tipo di confezione andiamo ad aprirla ecco qui con la ecco qui con la confezione qui almeno posso usare un cutter come si deve un taglierino lì nell'altro computer avanti all'altro computer invece per aprire la scatola ho dovuto usare una penna perché non avevo non avevo il taglierino questa è la scatola questo è il retro vedete dove ci sono le istruzioni per l'applicazione poi lo vedremo nello specifico sia l'applicazione a secco delle matite acquerellabili e sia anche l'applicazione a bagnato poi farò un test su un modellino che sto costruendo ci sono alcuni esempi dove poter da cui poi poter trarre spunto andiamola ad aprire sono 37 37 matite 37 matite su per cui le ho pagate 39 euro e quindi costano singolarmente costano poco più di di un euro vedete su due ripiani nel primo ci sono 19 matite nel secondo ripiano ce ne sono 18 ecco uno spazio vuoto le punte vengono consegnate con le punte leggermente arrotondate forse per evitare che si rompano nel trasporto nella durante o nella confezione i fondi di ciascuna matita sono colorati in modo che si possano riconoscere poi hanno anche il nome del relativo della relativa colorazione i nomi sono specifici proprio del modellismo non sono nomi chiamiamoli così pittorici i nomi vedete olive gray e quindi dicevo sono 37 la confezione si presenta bene non so quanto sia poi sarà funzionale questo tipo di confezione vedrò forse sarà meglio usare davvero comprarmi davvero un astuccio ho fatto fatica a trovare in internet le matite metalliche qui ce ne sono ben cinque alluminio mi sembra ferro oro rame e ottone mentre in internet ho trovato solo un color agendo color alluminio prendono colunque matita in questo caso un ocra gialla e proviamo a fare un po di colorazione gli interventi su questo era planino il modellino del p51d della rebel un modellino degli anni 60 che è davvero una tragedia perché le ali che non combaciano non spazio incredibile nella fusoliera dettagli e sproporzionati c'è tutta la rivetatura che è gigantesca pochissimi dettagli i pezzi che combaciano male però per chi volesse iniziare lo suggerisco perché si impara tantissimo proprio è fatto talmente male che per andare a correggere tutte le imperfezioni vi assicuro che si impara davvero tanto prendo un po d'acqua un pennello e iniziamo a provare a dare il colore a secco mi raccomando deve essere dato sempre su una superficie opaca in questo caso c'è questo modellino l'aereo il p51d a un primo strato di prime grigio della tami a quelle in bomboletta poi ho provveduto a fare le varie lisciature correzioni eccetera poi provvederò a darne una definitiva e vedete che il colore aderisce perfettamente quando la superficie opaca quindi a quel minimo di ruvidità e dove ci sono le scanalature o i piccoli rilievi sono le situazioni ideali in cui lui il colore si aggrappa proviamo anche con un altro colore altri due colori vediamo un po l'effetto che fa forse questo questo color ruggine è un pochino più evidente vedete che non si aggrappa però solo dove ci sono i rivetti ma anche su tutta la zona ruvida del ruvida per modo di dire ruvida del del colore opaco fosse lucida fosse una verniciatura lucida non ci sarebbero possibilità di colorazione e anche perché poi l'acqua scorrerebbe quando poi andiamo a bagnare l'acqua scorrerebbe via tra l'altro un tipo di applicazione del colore una volta fatte le punte alle matite tra l'altro pensavo quando si fa la punta a questo tipo di matita se ne butta via un sacco perché e quindi magari stavo pensando se c'era un modo anche per recuperare questi questo colore che viene viene buttato via quando si si fa la punta dicevo vedete come aderisce perfettamente questo questo colore la la matita questa è una colorazione a secco adesso possiamo provare dall'altra parte due tipi di colorazione bagnata uno immergendo la punta vedete ho immerso la punta in un po d'acqua e diventa la matita diventa una sorta di pennarello o pennello vedete come finché è bagnato come si distribuisce su tutta la superficie come colore si distribuisce tutta la superficie tra l'altro quando è bagnato vedete che l'intonazione cambia leggermente l'intonazione della della matita cambia leggermente addirittura sembia questo è più aranciato bagnato invece l'altro quel marrone scuro è molto simile quando è bagnato è molto simile a questo questo ruggine asciutto poi possiamo usare il pennello sia umido sia asciutto per andare a modificare a vedere a modificare l'intervento vedere che risultati possiamo tenere vi ripeto questo non è un weathering vero e proprio mi interessava capire come aderisce il colore sulla superficie matte del del primer e capire che tipi di intervento si possono fare a seconda del fatto che sia asciutto o bagnato oppure utilizzando come magari in questo caso anche un pennello inumidito oppure addirittura un pennello asciutto vedete in questo caso il pennello asciutto come sfumi maggiormente l'intervento fatto io credo che questo tipo di applicazione abbia una versatilità sia di una versatilità incredibile e abbia infinite possibilità di utilizzo proprio perché possiamo gestire il colore asciutto bagnato ma anche quando andiamo bagnato possiamo fare il colore bagnato con il pennello asciutto oppure come vedremo alla fine sul colore asciutto andare a intervenire col pennello bagnato adesso proviamo, ho preso un piccolo tovagliolino, proviamo a intervenire con il pennello questo è un pennello rotondo vedete come si riesce a sfumare o addirittura a togliere o eliminare completamente gran parte dell'intervento fatto ripeto è di una versatilità incredibile questo tipo di colorazione e fa sì che noi possiamo intervenire in svariati modi e ottenere risultati completamente diversi tutte le volte guardate come si è sfumato il colore utilizzando questo pennello rotondo morbido asciutto provo con una matita colorata con un colore più grande più scuro scusate vedete non solo i colori possono anche mischiarsi quindi dare quelle infinite tonazioni di colori che sono tipici della realtà se poi andiamo sullo sporco sullo sporcare lo sappiamo benissimo che ci sono tantissimi tipi di colore quindi anche andare a mischiare matite con colorazioni diverse addirittura a certe volte anche utilizzare sarebbe interessante vedere di utilizzare colori che in apparenza non c'entrano nulla io lo dico sempre quando vedo i modellini i dipinti dei visi sembra che il viso sia di un unico colore vedete come bagnando il tavagliolino io sia riuscito a togliere completamente tutta la colorazione e tutto l'intervento fatto questo ci permette di ritornare sui nostri passi qui in questo caso l'intervento fatto si è asciugato sto usando il pennello umido e vedete che pian piano in maniera delicata io posso andare a sciogliere il colore e andare a modificare l'intervento fatto dando la gradazione che ritengo più opportuna ampliandola oppure riducendo la zona di intervento o vedete come riesco a eliminare e a togliere completamente tutto il colore quindi anche col pennello bagnato morbido io riesco a sfumare oppure a togliere o a diminuire in maniera drastica tutto il tipo di colorazione di intervento fatto quindi ripeto ha una versatilità davvero questo tipo di colorazione ha una versatilità davvero davvero incredibile guardate come si è sciolto tutto davvero spettacolare poi se io voglio toglierlo basta bagnarlo ecco che tolgo al diciamo 90, 95, 99% perché comunque un minimo di alluone dell'intonazione che abbiamo usato vedete che rimane un pochino di arancione su entrambe le ali anche calcando un pochino non riesco a non sono riuscito a togliere rimane questo grigio leggermente macchiato di arancione ma non credo assolutamente che sia un problema perché se quella è una zona che io devo andare a risporcare sicuramente quel tipo di macchia non si vedrà assolutamente però è solo un test per capire le possibilità e le potenzialità di questo tipo di colorazione dicevo prima non ho alcun tipo di riferimento con altri tipi di acquarelli ho comprato questi semplicemente perché mi piacevano mi piaceva la confezione il costo era più che accettabile secondo me e poi ci sono dei colori che 99 su 100 andrò a utilizzare sono tutti i colori che andrò a utilizzare probabilmente avrei potuto risparmiare qualche 10 euro 15 euro prendendo dei colori acquarelleabili che troviamo nei negozi di belle arti non di marche logicamente marche conosciute ma direi che come costo secondo me siamo assolutamente in su cifre assolutamente accettabili se vi è piaciuto il video mettete il like e mi raccomando iscrivetevi al canale alla prossima grazie grazie grazie